Va bene, allora riprendiamo da qua, complicandoci la vita ovviamente, a passare, passando a relazioni che non siano più semplicemente 1-1, ma 1-n, che è la norma, cioè un po' il caso della relazione 1-1 è un po' l'eccezione che mi sono dovuto andare a creare perché appositamente, perché spesso non accade, quando la relazione 1-1 molto spesso a livello di database collasso la tabella e una tabella sola. Mentre invece è molto più frequente avere un elemento in relazione con n altri elementi. Allora in questo caso abbiamo due sottocasi, 1-n o m-n, possiamo avere una relazione 1-a-molti, in cui, lo sappiamo, in una direzione, dato un elemento posso trovarne molti nella tabella, ma nella direzione inversa ad ogni elemento ne trovo uno solo. Oppure il caso più generale molti a molti, che è quello che poi è l'unico che a livello di database implica la creazione di una tabella intermedia per mantenere i dati della relazione. Dal punto di vista del codice Java non ci interessa tanto se la relazione è 1-1 o 1-a-molti oppure molti a molti, perché noi ragioniamo separatamente sui due versi, cioè il verso, da sinistra verso destra, è univoco o molteplice. E allora l'oggetto di sinistra va trattato in un certo modo. E poi separatamente vediamo la relazione inversa. Quindi quando parlo di cardinalità n, intendo la cardinalità destinazione rispetto all'oggetto di partenza. Poi la cardinalità inversa può essere 1, può essere n, ma questo è un problema che mi pongo sull'oggetto destinazione per creare una relazione al contrario. In qualche modo queste relazioni tra oggetti sono relazioni tutte, guardando il linguaggio di grafico, orientate. Non è come una chiave primaria che di per sé non ha, no, guardiamo anche qua, è un valore, è un numero. Invece qua nell'oggetto dentro lo studente ho un riferimento che mi permette di saltare verso persona. O dentro la persona ho un riferimento che mi permette di saltare verso studente. Sono separate, potrei decidere di orientare la prima ma non la seconda perché non mi serve o viceversa. La cosa importante è che per ogni studente so che c'è una sola persona, per ogni persona so che c'è un solo studente. Quindi ogni quale volta da un oggetto passando a un altro so che ce n'è uno solo, la rappresentazione è questa. Anche se fosse una relazione uno a molti, se mi metto dalla parte uno dove ce n'è uno solo, lo rappresento in questo modo, non mi importa che dall'altra parte sia diverso. Mentre invece dalla parte in cui ho una molteplicità ovviamente non potrò avere un solo attributo, ma dovrò rappresentare una collection di attributi che corrispondono ai valori in relazione con quello dato. Una collection che può essere un set, che può essere una lista. Anche qua cercherò di fare in modo che a questo oggetto vengano associati non una collection di interi o di stringhe che rappresentano le chiavi primarie, ma direttamente una collection di oggetti per quanto possibile. E ovviamente poiché a questo punto dentro il java bin ho messo una collection, il java bin dovrà fornire dei metodi per poter agire su quella collection. Quindi non solo set, get dei suoi campi, ma anche aggiungi, cancella, ricerca dentro la collection. Che posso fare o replicando i metodi, oppure semplicemente esponendo la collection in quanto proprietà. Per dirne una come succede con una combo box, per manipolare l'elenco degli elementi della combo box non ho dei metodi sulla combo box, ma la combo box ha un get items che mi dà la collection e dice fai tu, manipola tu direttamente la collection che poi io la uso. Un esempio, allora che esempio più facile è la reazione 1 a molti. 1 a molti potrebbe essere la reazione residenza, quindi sempre lo studente di prima e il residente di una città. Quindi ogni città avrà un suo codice, che potrebbe essere il codice di avviamento postale, dico potrebbe perché poi in realtà non è vero, non è un buon codice univoco, perché sapete che come le grandi città non hanno un codice di avviamento postale unico, ma ogni settore ce n'ha uno diverso, ma poi la cosa peggiore è che ci sono dei codici di avviamento città completamente separate tra di loro, distanti, che hanno lo stesso CAP. Non so se vi è mai capitato, io vivevo in un comune che aveva lo stesso CAP di un altro comune che era molto distante, che è ovviamente all'interno della stessa regione, perché le prime due cifre identificano la regione e quindi quello lì non è univoco per niente. Infatti non a caso, sia nel codice fiscale che quando pagate le tasse con l'F24, il codice del comune che vi fanno mettere è un codice composto da una lettera e tre numeri e non è il codice di avviamento postale. Però questo ad esempio potrebbe essere un codice identificativo della città, tipo Torino è L219, chi è nato a Torino ha quello nel codice fiscale, le quattro penultime lettere sono il codice città e se dovete pagare le tasse a Torino nell'F24 indicate quel codice lì. Quindi sono quattro caratteri, quelli sono univoci. Quindi è un codice di tipo, potrebbe essere numerico se il CAP fosse affidabile e invece stringa nel caso in cui usiamo il codice tra le viste fiscali della città. Una città ovviamente può ospitare molti studenti che siano residenti in quella città o è lo studente però è residente in una sola città. Quindi la reazione uno a molti, molti studenti in una città. All'idea di database come lo rappresentiamo? Avendo solamente la chiave esterna dalla tabella molteplice alla tabella univoca. Quindi dato uno studente nella chiave esterna c'è scritto esattamente il codice della città in cui lui è residente e poi se voglio sapere il nome lo vado a leggere. Nella direzione inversa non c'è niente. Nella tabella città non ho un campo studenti residenti. Non devo averlo. Non devo averlo perché non è neanche possibile in SQL avere un campo, una colonna che sia un elenco di. Le colonne in SQL sono dati semplici. Se vi viene in mente di fare una lista state pensando male. La prima forma normale dice che i campi devono essere dati semplici, non strutturati. Non devono avere una struttura interna. E quindi non c'è questo dato. Come faccio a recuperare data una città l'insieme di tutti gli studenti? In SQL non c'è problema, faccio una join e in SQL è fatto apposta. L'indice che viene a creare, quando definiscono chiave esterna, l'indice che si viene a creare a queste due tabelle è un indice che il database sa navigare in entrambe le direzioni con la stessa facilità. Sono fatti i suoi, semplicemente la rappresentazione dell'informazione. E' un po' anche quello che dicevamo prima nel caso 1-1. E vi ho detto, guarda che se non ci fosse l'indice e la chiave esterna di destra, questa relazione si trasformerebbe in uno a molti. Ci sarebbe il rischio di avere più studenti che hanno stesso valore fiscale. Ecco, qui in realtà non è un rischio, ma è ciò che vogliamo ottenere. Abbiamo un vincolo univoco da un lato, nessun vincolo di unicità dall'altro lato, la città del studente, e quindi se non c'è nessun vincolo vuol dire che è possibile averne molti. Ok, quindi navigare da sinistra a destra, da destra a sinistra, in SQL si fa semplicemente facendo una join e non esiste destra o sinistra, non in SQL. Mentre invece in Java come facciamo? Vabbè, per quanto riguarda studente non è cambiato nulla. Dicevamo come prima, la reazione da studente verso città è univoca. Quindi lo rappresento semplicemente rappresentando un riferimento alla classi città. Come facevo prima? Non è cambiato nulla. Perché in questo verso vedo una molteplicità pari a 1. E nel contrario, se io avessi l'oggetto città e mi servisse conoscere quali sono gli studenti residenti in questa città, allora se mi serve una sola volta faccio una query, quando mi serve, lo chiedo al database e non mi pongo altri problemi. Ma se mi servisse farlo spesso, allora potrebbe essere conveniente memorizzare dentro la classi città le informazioni relative agli studenti che sono residenti in quella città. Come? Memorizzando dentro l'elenco città una lista, il sito collection in generale potrebbe essere una lista oppure un insieme, un list o un set, dipende da come lo vogliamo navigare, se ci interessa l'ordine. Formalmente sarebbe più corretto un set, perché arriva da un modello relazionale in cui gli elementi sono univoci e non ordinati. Tra l'altro un set è molto più veloce, verificare se un elemento esiste già oppure no, però un pochino più scomodo da iterare, perché gli elementi sono disordinati tipicamente se un hash set rispetto a una lista. Però questi sono, se vogliamo, i dettagli della scelta della collection. Diciamo una lista che contenga i riferimenti agli oggetti studente, corrispondenti agli studenti effettivamente residenti in quella città. Quindi è come se io da questa città facessi una query e dicessi, senti dimmi tutti quelli che sono residenti qua, e tutti questi, il risultato di questa query diventa il contenuto di questa collection. Di nuovo, cerchiamo di fare in modo di usare i riferimenti a oggetti studente già esistenti e non creare nuovi oggetti. Io non voglio far proliferare, scoppiare la memoria del programma, in cui dentro una città ci metto effettivamente tanti oggetti studente nuovi. Ma se questi oggetti studente li ho già, perché magari li ho già letti da un'altra parte, li ho già in un'altra lista, allora qui posso mettere un riferimento a quegli oggetti già di quella lista. Non mi state perdendo qua, vero? O non vi sto perdendo qua? Io quando faccio, immaginate un metodo dao.list.studente, che studisce un'arraylist di studenti. A livello Java, lui restituisce un oggetto dao.list, poi crea mille oggetti di tipo studente, e l'oggetto dao.list contiene i riferimenti in link a quegli oggetti di tipo studente. L'oggetto studente è separato dalla lista. Io qui sto dicendo che faccio un'altra lista, che è un oggetto separato, che però internamente punta a come riferimento gli stessi oggetti di prima. Quindi lo spazio occupato dagli studenti è lo stesso, non ero presentato due volte, tre volte, quattro volte. Poi tecnicamente vediamo come fare a evitare di crearli più volte, no? Però a livello di struttura dati, io da qualche parte, nel mio IP di Java, uno studente, che sono io, e questo studente è, tra virgolette, incluso in tante collection diverse. Nella collection di tutti gli studenti, nella collection degli studenti residenti in una determinata città, nella collection degli studenti iscritti a gestionale, ammesso che ci sia, e così via. Ma l'oggetto è sempre lo stesso. Ciò che mi salvo sono le relazioni. Quindi in questo caso, da città, posso avere un metodo get studenti residenti, che mi restituisce una collection, che sia una list, che sia un set, su cui poi posso andare a iterare e fare qualcosa sui singoli studenti. Se non avessi questo attributo, a meno di fare una query sul database, cosa che posso sempre fare, ovviamente, per sapere, da tra città, i studenti residenti, dovrei farmi molto male. Dovrei andare a prendere la lista di tutti gli studenti, guardarli uno a uno, e trovare gli otto che sono residenti in quella città di montagna sperduta, tra i 20.000 studenti che ho in totale. E dovrei, studente per studente, chiedermi se città di residenza è uguale alla città che mi interessa. Quindi su 20.000 oggetti faremo chiamare 20.000 equals per ottenere gli elementi che ho. Farlo a livello di collection è faticosissimo, sia a livello di codice, che devo scrivere una cosa ogni volta, sia anche a livello di tempo di esecuzione, perché quella lista la vado a scandire migliaia di volte. Mentre invece questa lista è relativamente facile da popolare nel momento in cui faccio la query del database. appena leggo uno studente, vedo dove è residente e lo accodo a questa collection. Creo l'oggetto studente e lo aggancio alla collection della città in cui lui è residente. Non mi costa niente nel momento in cui ho l'oggetto in mano, dire dove sei residente? A Torino. Ok, gettorino.ad o cose del genere. Quindi nel momento in cui abbiamo l'informazione in mano, in qualche modo ci salviamo dei meccanismi di navigazione per poter passare poi da un oggetto all'altro. Non avendo le join che in SQL possono essere fatte in qualunque momento, in qualunque modo, in Java dobbiamo crearci noi delle relazioni navigabili, attraversabili. Quindi un modello oggetti è un modello in cui ci sono delle relazioni esplicite da poter attraversare, in tutti i modelli oggetti. Immagino che a questo punto web abbia già fatto, per chi fa il corso di web, anche il modello oggetti di JavaScript, il DOM. Anche lì hai degli oggetti con delle proprietà e molte di queste proprietà ti permettono di passare da un oggetto a quello vicino, dall'oggetto allo stile, dal padre, ai figli, eccetera. E puoi muoverti solamente usando le proprietà che ci sono. Se devi fare un movimento che non è esplicito in quelle proprietà, parti dall'inizio e li cerchi tutti. E qui la stessa cosa, stiamo creandoci un nostro piccolo modello oggetti in cui stiamo decidendo quali relazioni rappresentare. Ovviamente ho scritto qua, vabbè, ho scritto le cose che in realtà abbiamo detto a parole. Dicendo che sopra basta una chiave primaria, una chiave esterna sola per rendere la relazione, tra virgolette, navigabile in entrambe le direzioni, invece in Java se voglio navigare nelle due direzioni ho bisogno di due attributi separati, da gestire separatamente. Poi c'è il caso generale che è quello delle relazioni N e M. Allora, il caso generale delle relazioni N e M significa che per ogni, qui ho un esempio di un database in cui io posso immaginare di avere degli articoli scritti scritti da degli autori, qui l'ho chiamato creator, questa classe autori perché nel db che poi usiamo si chiamerà così, lo leggete l'autore. Quindi ho tanti articoli, tanti autori e non stiamo pensando a articoli di giornale dove l'autore è uno solo, pensiamo a articoli scientifici o dei libri dove ci sono anche più autori, quindi ogni articolo può avere più autori e ogni autore se non è un fannullone ha scritto tanti articoli o libri che siano. Allora, in questo caso è una relazione molti a molti tra articolo e autore. Per poter rappresentare questa relazione a livello di database ho bisogno di una tabella intermedia, chiamata authorship, e in questa tabella intermedia contiene una serie di coppie di informazioni, dice l'articolo id 1 è stato scritto dall'autore 3, poi in realtà l'articolo 1 è anche stato scritto dall'autore 5, l'articolo 1 è anche stato scritto dall'autore 20, ma l'autore 5 è anche scritto dall'articolo 7, quindi ho una serie di coppie di valori, questi id, sto ipotizzando numerici, che mi legano le coppie autore-articolo e quindi le posso navigare in un verso, quindi se io conosco un articolo attraverso l'id article, vado a interrogare authorship, per tutte le righe, tutte le coppie che contengono quelli di article, mi dà l'elenco dell'id creator e attraverso questo elenco, che sono molti, potenzialmente questi di creator, trovo tutti i dati sui creator, di quell'articolo. Viceversa, se ho un autore, avrà un id creator, interrogando la tabella authorship con quel valore, facendo la join sul campo id creator, mi dà tanti id article diversi, ciascuno dei quali posso usarlo per ottenere i tanti articoli che ha scritto quel singolo creator. Questa è una tabella intermedia che ha due chiavi esterne che puntano nelle due direzioni diverse. la tabella d'articolo non ha nessuna chiave esterna verso creator, perché non è un'ivoca molteplice la relazione d'articolo a creator, quindi non mi basta un campo, e così come creator non ha nulla. Quindi queste sono due tabelle che se le guardo così sembrano separate, chi le mette insieme sono le chiavi esterne presenti in questa tabella intermedia. tabella intermedia che di per sé non ha nessun significato, è un posto in cui scrivere per questo articolo chi sono gli autori, oppure un posto in cui scrivere per quell'autore quali sono i suoi articoli. perché in SQL non lo posso mettere dentro article, non lo posso mettere dentro creator, questa informazione, punto. E allora la metto in un'altra parte. Infatti quando facciamo un modello di identità relazioni queste cose qua non ci sono. E quando ci accorgiamo che abbiamo una relazione molti a molti, quando facciamo poi la progettazione logica diciamo eh, qui bisogna aggiungere una tabella. Ok, queste ovviamente sono chiavi esterne. Poi qual è la chiave primaria di questa tabella intermedia? Dipende, ci sono due filosofie. Alcuni dicono no, correttamente, la chiave primaria di questa tabella, altro non è che l'insieme, una chiave combinata, questo qua con l'asterisco, primary key, primary key, la chiave combinata di tutte le chiavi esterne. Non mi serve altro. Cioè io identifico in modo univo con la riga di questa tabella dicendoti qual è l'articolo e qual è l'autore di cui sto parlando. Altre volte per comodità, ma per comodità del database essenzialmente, non si vuole fare una chiave primaria composta e quindi si aggiunge un altro campo e quindi anziché, diciamo, con l'altra opzione con l'hash, aggiungo un altro campo in più che semplicemente identifica la riga di questa tabella. Questo campo non significa niente, è un numero che mantiene semplicemente le righe una diversa dall'altra, ricercabili come chiave primaria, punto. Quindi non ha significato di per sé. E' un pochino pericoloso aggiungere la chiave primaria aggiuntiva perché questo potrebbe permettere di avere coppie articolo creatore ripetute. Se l'articolo 1 viene scritto dall'autore 7, punto, è tutto ciò che ho da dire, ha senso, e quindi vuol dire che c'è una coppia 1-7 nella tabella authorship, ha senso avere una seconda coppia 1-7 nella tabella authorship? Cosa vuol dire? Vuol dire che l'articolo è stato scritto un'altra volta di nuovo da 7? No, è lo stesso articolo, lo stesso autore, o l'ha scritto o non l'ha scritto. Non ha senso avere coppie ripetute. Questo è ciò che significa avere una chiave primaria composta. Che le singole componenti della chiave si possono ripetere, cioè l'articolo può essere presente tante volte con creatori diversi, il creatore può essere presente tante volte relativamente ad articoli diversi, ma la stessa coppia, articolo e creatore non si può ripetere una seconda volta, perché non ha significato, non vuol dire niente. Allora, se io definisco come chiave primaria di questa tabella intermedia la chiave composta da queste due chiavi esterne, ottengo quel risultato. È impossibile, tecnicamente, a livello di integrità referenziale, avere più volte l'informazione che è quell'articolo specifico che è stato scritto da quell'autore specifico. Se invece non faccio la chiave composta, ma decido di aggiungere un campo in più, teoricamente è possibile creare un'altra riga con ID Autorship diverso, ma lo stesso ID Article, lo stesso ID Creator. Continua a non aver senso, ovviamente, crearla, ma a livello di database tecnicamente lo posso fare. Quindi da un lato mi semplifico un po' la vita, perché è una chiave primaria, semplice e non composta, dall'altro devo stare più attento a non inserire dei dati che non abbiano senso. Quindi un po' di compromesso c'è sempre. Ma l'unica cosa di cui siamo sicuri qua dentro, di tutta questa tabella, è che sicuramente contiene molta informazione, ma i singoli dati che ci sono lì dentro non sono significativi. Il numero di ID Creator, il numerino che c'è qua, cosa mi dice? Niente. Il numero della chiave primaria, cosa mi dice? Niente. E infatti questa tabella non ha senso che cerchiamo di rappresentarla. Cerchiamo di catturare il fatto che questa tabella, altro non è che un modo di esprimere la relazione molti a molti tra le due tabelle che contano, articolo e autore. Come? Eh, usando la rappresentazione a molti, di cardinalità molteplice. Quindi, poiché un articolo può avere molti autori, dentro il bing che rappresenta la classe articolo, metterò una collection di autori. Quindi avrò un getCreators che mi dà la lista dei riferimenti agli oggetti di tipo creator, dall'altra parte. E questo mi serve per navigare comodamente dall'oggetto article all'oggetto creator. E la stessa cosa dall'altro lato. Nell'oggetto creator la relazione verso article è molteplice e quindi dovrò avere un attributo di tipo collection, list oppure set, che mi permetta comodamente, dato un autore, di avere l'elenco degli articoli da lui scritti. Non degli ID degli articoli, ma degli articoli completi, quindi riferimento all'oggetto che abbia tutte le informazioni. Ovviamente, se ho mille articoli e mille autori, è un lavoraccio popolare questa collection, perché per ciascuno degli articoli devo popolare una collection con gli autori di quell'articolo lì. Quindi dovrò fare una query apposita, forse, oppure una join molto profonda. E poi anche viceversa, per ogni autore dovrò fare, estrarre quali sono gli articoli di cui lui è autore. E poi per ogni autore è popolare, compilare correttamente quella collection. Quindi è facile da scrivere. Ah, sarebbe bello avere una collection che mi dia direttamente, semplicemente facendo un get articles tutti gli articoli di un determinato autore. Perfetto, sono d'accordissimo. Il problema è che c'è del lavoro dietro per riuscire a popolarla correttamente questa lista. Quindi lo facciamo se vale la pena, come sempre, come tutto. Se abbiamo bisogno di farlo, questo è il modo di farlo. Se non abbiamo bisogno di farlo, non lo facciamo e basta, non è critico. faremo una query in più nel momento in cui ci serve quel dato. Tanto il database ce l'abbiamo sempre sotto mano. Ok. Quindi, questo qua, se vogliamo, è il riassunto per chi si stampa le slide delle parole che abbiamo detto. Dove semplicemente si nota che la tabella intermedia non è affatto rappresentata in Java. Non sapremo neanche come chiamarla, non sapremo neanche cosa metterci dentro. Un approfondimento ancora o una riflessione sulla scelta che abbiamo fatto. Che è la scelta che vi ho venduto così tranquilla qua, no? Dicendo, no, no, ma non voglio rappresentare come stringa il codice fiscale, voglio rappresentare come oggetto la persona. Non mi avete bloccato e quindi sono stato contento. Ma ragioniamoci un attimo. quali sono, come tutte le scelte, non c'è mai la scelta unica, no? Quali sono i pro e i contro? Allora, immaginiamo di avere, adesso qui ho fatto l'esempio della città di residenza. Qui siamo nell'oggetto persona, nell'oggetto studente e vogliamo rappresentare ovviamente nel database ci sarà un campo che è la chiave esterna che rappresenta la città di residenza e noi la vogliamo rappresentare in Java. Ci siamo appena detti che il modo più furbo, più comodo è di rappresentarlo direttamente come riferimento dentro l'oggetto. Memorizziamo un riferimento a un oggetto completamente inizializzato, cioè con tutti i dati della città che corrisponde alla riga della tabella corrispondente. Quindi dentro l'oggetto studente metto un riferimento a un altro oggetto che mi rappresenta tutta l'informazione sulla città. E' chiaro che per far questo devo io ho il mio metodo che leggi gli studenti e per ogni studente deve andarsi a leggere anche l'informazione della città. Complicandolo un pochino perché vuol dire che devo in qualche modo fare una join oppure una query annidata per andare a pescare le informazioni sulla città corrispondente. Però il vantaggio è che una volta che ho fatto questa query che è più complicata ho tutti i dati che mi servono. Questo è un metodo che si chiama a volte eager loading cioè carico anche in anticipo comincio a farlo tanto magari mi serve non sto ad aspettare. Il problema è che faccio del lavoro in più per caricare questi dati e poi magari c'è il rischio che non mi servano. Sia dal punto di vista del codice che ho scritto e poi per avere un'informazione che non mi serve oppure del tempo che ci ho messo per ottenere quell'informazione e fare delle query per dati che poi non vengono usati sempre. Quindi magari mi serve quindi questo è l'unico diciamo così svantaggio. Se invece decidessimo non credessimo nel valore degli oggetti decidessimo di rappresentare direttamente la chiave esterna quindi l'intero che rappresenta l'ID della città ad esempio quindi memorizziamo un valore non il riferimento ad un oggetto beh il vantaggio principale forse l'unico è che è facile da creare questo oggetto perché il valore della chiave esterna ce l'ho già nella query fine ho già quel numerino lì non mi dice niente 212 che città è? Non lo so ma memorizzo questo dato se poi mi servirà sapere quale città è la città 212 chiamo il DAO e le dico senti io qua ho un ID mi dici per favore qual è la città? E quindi acquisisco quell'informazione solamente nel momento in cui mi serve questo magari perché non ho o non mi servono nel mio esercizio un elenco di tutte le città quindi mi servono solamente le informazioni sulle poche città magari che devo stampare o di cui devo avere delle informazioni quindi è più facile in fase iniziale creare per dire la classe studente sapendo che però ogni volta che devo avere informazioni sulle città devo tornare al database e chiedergli perché l'unica cosa che ho in mano è l'ID non riesco neanche a stamparlo in nome della città devo andare a chiederlo ogni volta e quindi alla fine anziché fare una query o un insieme di query più pesanti all'inizio e poi basta tendo a fare un caricamento più veloce all'inizio e poi però tante query aggiuntive ogni volta che mi serve poi il dato specifico perché non ce l'ho anche qua vediamo dipende dai casi queste query aggiuntive quanti sono tante troppe beh allora non facciamole se sono poche magari mi conviene non hanno troppo impatto sulle prestazioni e però non mi complico la vita all'inizio come sempre dobbiamo semplicemente avere di fronte le varie possibilità poi proviamo a scegliere quella migliore in realtà c'è anche una terza via che è un po' una via di mezzo che a parole è appealing poi anche implementare è un po' rischio perché si nascondono spesso dei bachi che è quella di qui c'è una via di mezzo definire nella classe un oggetto completo riferimento a città ma non inizializzarlo del tutto c'è avere un oggetto che è un po' una porcata un oggetto parzialmente inizializzato faccio la new e in quell'oggetto metto tutti i campi a null tranne la chiave primaria tranne l'id non è che si arrabbia un costruttore se gli metti null ai riferimenti agli oggetti purché non cerchi di usarli ovviamente allora vuol dire che nel momento in cui io leggo gli oggetti sono come qua come nel caso di sinistra ho solo bisogno di conoscere il valore della chiave primaria e costruisco gli oggetti che sono solamente parzialmente inizializzati quindi è facile da ottenere così come lo era il valore è ovvio che quando non appena uno dovesse fare get città residenza e va bene mi da un oggetto punto get nome città questo nome città non ce l'ho perché in fase di creazione dell'oggetto non ce l'avevo questa informazione allora però solamente in quel momento posso decidere di farla query quindi si chiama lazy loading è un caricamento pigro aspetto fino all'ultimo momento quando mi serve carico il dato e allora ho un bing che è parzialmente inizializzato all'inizio poi man mano che accedo ai suoi campi lui si accorge se faccio get nome città e dentro è null un attimo faccio una query al dao lo riempio e poi dopo ti rispondo la prima volta poi dopo che l'ha fatto ormai il dato se l'ha scritto dentro e quindi ha finito di inizializzarsi quindi l'oggetto completa la propria inizializzazione solamente la prima volta che ne vengono richieste le informazioni e quindi il caricamento vero non lo faccio io quando inizializzo l'oggetto ma lo fa il getter che si accorge mi ha fatto il getter di un campo che non conosco aspetta che devo chiedere al dao di completare le informazioni quindi questo è un altro modo dove appunto l'unica criticità è il fatto di avere questi oggetti parzialmente inizializzati che se poi cerco di usare un campo che non sono riuscito a leggere e inizializzare correttamente poi ci sono dei nulpo interception che girano ovviamente nel programma quindi bisogna farlo bene però un ibrido tra i due nel senso che mi mantiene un'interfaccia generale e oggetti perché io vedo quel bel oggetto città ma non mi richiede lo sbattimento iniziale di popolare tutta l'informazione mentre se ho un segnaposto del tipo ok questa è la città 230 poi quando mi serviranno le informazioni su quella città e solo se mi serviranno le vado poi a leggere a livello di codice c'è forse un pochino più da scrivere che non in questo caso perché qui carico tutto subito quindi sono sicuro che gli oggetti ci sono qua invece dovrò sempre controllare l'oggetto inizializzato o no bisogna di un campo che mi dica se è inizializzato o no se l'ho trovato nel database eccetera quindi un pochino di complicazione in più c'è però tutto sommato alla fine evita il problema del caricamento massivo e carica solamente appunto in modo lazy in modo ritardato l'informazione ovviamente se se è veramente lazy se è veramente fanullone se è veramente applica questo metodo deve evitare di leggere i dati due volte per la stessa città quindi anche qua bisogna fare in modo che se lo studente che ha un campo città e poi ho qualche cos'altro non lo so il palazzo che ha anche lì un campo città questi due campi siano in realtà lo stesso oggetto in modo che quando faccio get nome città arrivando al studente carica dei dati e a questo punto si ritrova già pronti anche se arrivassi da edificio da palazzo perché se no che pigro sono se faccio le cose due volte e questo mi porta all'ultimo problema che in realtà è sottinteso da tutte queste collection che è quello dell'identità parlando con Marcelli mi ha detto che alcuni di voi hanno avuto dei bacchi abbastanza dolorosi nell'ultimo laboratorio proprio dovuto a questo problema cioè il fatto di creare oggetti distinti ma identici guardiamo questo esempio sempre su article creators immaginiamo di creare il database caricandolo l'elenco di articoli per ogni articolo l'elenco degli autori ok allora abbiamo detto va bene article sarà la lista di tutti gli articoli avrò un metro del DAO che mi dà la lista article poi dentro article una collection creators quindi ovvero degli oggetti che sono relativi ai creator allora vorrà dire che un articolo alla volta itero sugli articoli per ogni articolo chiedo al DAO senti dimmi chi sono gli autori di questo articolo e lui mi darà una lista di autori e questa lista di autori l'ho imposto come parametro creators quindi ho creato ho chiesto al DAO va bene ho 100 articoli per ciascuno di questi articoli chiedo al DAO quali sono gli autori di questo articolo lui mi dà una lista la salvo un'altra lista la salvo fin qua perfetto giusto? cosa fa il metodo get creators form andiamo sotto siamo dentro il DAO avrà un result set avrà fatto la sua query e poi prende tutti i campi l'id il nome il cognome sua sorella eccetera crea un oggetto e l'ho code in una lista quante volte abbiamo scritto questo codice whatresult.next result.add ok? ritorno al risultato questo risultato va a finire in una lista di articoli qual è il problema? che se io ho due articoli che hanno un autore in comune articolo 1 articolo 2 sono entrambi scritti dell'autore 10 io con le mani l'ho fatto così due articoli separati l'autore uno solo ma in realtà cosa fa questo codice? quando fa la get creators dell'articolo 1 crea un oggetto creator nuovo e lo mette nella lista relativa all'articolo 1 quando fa l'articolo 2 rifà una query diversa creerà un altro oggetto creator perché qui c'è scritto new e quindi crea uno nuovo che è sempre relativo all'autore 10 quindi avrò articolo 1 autore 10 articolo 2 autore 10 e questi due autore 10 cosa sono? sono due oggetti diversi diversi perché li ho creati in momenti diversi con due new diverse che contengono campi identici se il database nel frattempo non è cambiato non solo se provassi a fare hash code o equals l'hash code era lo stesso contengono gli stessi campi l'equals mi dirà che sono uguali quindi sono due oggetti che sono equal a tutti gli effetti se provo a mettere il primo in un set e poi a mettere il secondo in un set il secondo non me lo mette più perché è già equal a un oggetto esistente se inserisco il primo oggetto in un set e mi chiedo e chiedo se contains il secondo lui mi dice sì che lo contains sì che lo contiene perché il suo hash code e il suo equals rispondono di sì però continuano ad essere oggetti diversi e tu dici chi se frega beh ce ne frega in due casi uno perché comunque stiamo sprecando memoria cioè se quell'autore 10 è prolifico e ha scritto mille articoli lui la classe che contiene i dati dell'autore 10 viene ripetuta mille volte sprechiamo tempo perché in tutti i metodi equals che si rispettino il primo controllo che fa la procedura equals è se i due oggetti sono veramente identici è lo stesso oggetto ne prendo uno a caso questo è fermata qualunque oggetto che è identificato da id fermata ok ma guardate cosa è la prima riga if this uguale uguale obj cos'è questo confronto poi più avanti va a controllare se id fermata diverso da dal punto fermata che è il vero controllo sulla chiave dell'oggetto ok sul campo identificativo dell'oggetto ma questo cos'è si chiede se l'oggetto this con cui faccio il confronto e l'altro oggetto sono lo stesso oggetto cioè non questo e questo che contengono i stessi campi ma questo e questo lui sempre lui stesso indirizzo di memoria il riferimento this e il riferimento obj fanno riferimento l'uguale uguale fa riferimento agli indirizzi di memoria all'oggetto che sta in memoria quindi ogni volta che quando inserisco un oggetto in uno set lo ricerco eccetera chiamo equals nel caso in cui due oggetti da confrontare siano in realtà lo stesso oggetto e restituisce ritorno a true subito senza dover andarsi a incasinare a fare il confronto tra gli interi o le stringhe o altri magari ci sono campi complessi da verificare quindi è molto più rapida l'identità di oggetti lo stesso oggetto è diverso che un oggetto identico un oggetto uguale allora se è possibile sarebbe bello evitare di creare oggetti uguali ma non identicamente se stessi cioè se quell'oggetto lì per l'autore 10 ce l'ho già cerchiamo di non crearne uno secondo se mi serve di nuovo l'oggetto per l'autore 10 facendo riferimento all'esercizio la volta scorsa il problema c'era quando uno aggiungeva al grafo dei vertici e poi per aggiungere degli archi ricreava gli oggetti di nuovo però a questo punto l'oggetto era diverso l'oggetto che era l'endpoint dell'arco era diverso era equal ma era un oggetto distinto rispetto a quello dell'edge quindi se poi uno usava uguale anziché equals non funzionava più niente quindi questi nuovi oggetti che creiamo sono oggetti che sono oggetti nuovi diciamo così intercambiabili rispetto all'originale non è che c'è l'originale e la copia sono tutte copie valide e uguali ma sono comunque copie diverse e soprattutto non rispondono al test di uguaglianza con l'operatore uguale o diverso perché ricordiamoci che uguale o diverso non chiama il metodo equals ma va a vedere semplicemente l'indirizzo di memoria quindi se è lo stesso fisico oggetto allora la soluzione qual è? la soluzione è di evitare di creare oggetti così se mi accorgo che un oggetto di quel genere ce l'ho già memorizzo memorizzo qui posso ad esempio memorizzare all'interno di una mappa tutti gli oggetti che ho trovato che ho creato e quindi prima di creare un nuovo oggetto controlliamo se c'è già nella mappa se c'è già nella mappa uso quello non ne sto a creare un altro uguale se non c'è ancora nella mappa lo creo e lo salvo per dopo quindi questo pattern di programmazione si chiama identity map c'è una mappa dell'identità che serve per avere il riferimento unico reale di quel singolo oggetto quindi di ogni oggetto ce ne sarà una copia sola e quindi in qualche modo quando ho bisogno di un oggetto quando ho bisogno di cercare un oggetto che ha una chiave primaria 1 ad esempio prima di tutto chiedo la mappa senti ma tu hai già l'oggetto 1 se ce l'ha già mi restituisce l'elemento che c'era già nella mappa se invece la mappa non ce l'aveva allora andrò al database e gli chiederò effettivamente farò la query per ottenere quell'oggetto e poi non è scritto qua aggiornerò la mappa per salvare quel dato quindi a livello pratico cosa facciamo creiamo un oggetto che faccia questo lavoro da identity map che contiene una mappa chiave valore dove la chiave è l'attributo chiave chiaramente della classe nel caso città l'id nel caso studente la matricola eccetera e il valore della mappa è l'oggetto completo quindi in pratica noi avremo due strutture dati che contengono questi oggetti una è una lista immaginate il nostro modello ci sarà un oggetto che sarà all students le lista di studenti tutti gli studenti è una lista e poi avrò anche un identity map di studenti che mappa la matricola con l'oggetto studente chiaramente l'oggetto nel value della mappa e l'oggetto nella lista sono lo stesso oggetto puntato sia dalla lista quando voglio fare una scenazione sequenziale dei studenti sia dalla mappa quando voglio ricercare uno studente mirato conoscendo la sua matricola quindi ho due modi sequenziale e per look up per ricerca di accedere alla stessa informazione e quindi ogni volta che avrò bisogno di un studente da una join da una query mi arriva una chiave primaria non devo fare scansione della lista ma chiedo alla mappa dimmi qual è l'oggetto studente e poi lo posso usare dimmi c'è una domanda non basterebbe solo la mappa chiede lui la mappa ha il problema che l'attributo values ti dà i dati disordinati se tu vuoi avere gli oggetti l'elenco degli studenti puoi fare la mappa punto values get values però sono disordinati mentre la lista le mantiene nell'ordine in cui li volevi tu e se poi devi propolare una tendina qualcosa di questo genere fa piacere averli ordinati come vuoi tu quindi il motivo vero per cui si mantiene anche la lista è quello perché la lista mantiene l'ordine dove la mettiamo sta mappa? beh conviene metterla nel modello e quando serve passarla al DAO nel momento in cui crea gli oggetti questa questa map questa identity map io qua ho scritto una per ogni tabella del database ovviamente come sempre se serve se vale la pena qui ci sarà un identity map per lo studente una per la città e cose di questo genere il model si mantiene tutte queste mappe e poi qualora io abbia che ne so un identity map per gli studenti a tutti i metodi del DAO che fanno delle quiz su studente gli passerò anche come parametro in più il identity map così il DAO dentro quando si fa la query se vede che un dato ce l'ha già restituisce quello della mappa anziché restituire anziché fare la query davvero oppure si restituisce se ricava un elenco gli elementi di quell'elenco mentre restituisce come risultato già che ce li aggiunge anche la mappa così ogni volta che il DAO ottiene i dati relativi a un elemento per qualunque motivo non sappiamo il DAO perché quando il DAO non sa perché vengono chiamati i propri metodi ma ogni volta che viene chiamato un metodo che restituisce un oggetto lui già che c'è lo salva nella mappa anzi prima va a vedere se per caso c'è già perché se c'è già magari riesce il DAO a risparmiare una query ovviamente se nella mappa c'è un oggetto deve ritornare l'oggetto della mappa e non l'oggetto del database vi faccio vedere un esempio di codice che implementa questa cosa su una versione di country borders su cui avevo un attimo giocato quella volta scorsa allora io nel esercizio di country borders ho provato ad aggiungere un identity map sulle country ok in quel caso avevo un tipo di oggetto solo quindi non sarebbe stato non c'era una reazione molti a molti ma proprio perché il database qua era più semplice sono partito da qua per illustrarvelo quindi immaginiamo di voler mantenere l'unicità degli oggetti tipo country e questo è particolarmente utile se ho poi delle relazioni molti a molti da gestire allora definisco un oggetto country identity map cosa fa questo oggetto ma di fatto è un wrapper intorno a una mappa ricordate in country border cos'era una country aveva un country code una sigla della country e il nome completo della country la chiave era il country code che era un intero quindi questa mappa accederà col numero intero come chiave e ovviamente il valore sarà l'oggetto country completo completo di tutti i valori come funziona questo oggetto vabbè essendo una mappa dovrò fornire l'equivalente del metro get che dato un country code mi restituisca l'oggetto completo quindi in questo modo quando ho in mano un country code non ho bisogno e ho già visto questo country code prima non ho bisogno di chiedere al database come si chiama la nazione ce l'ho già la cosa diventa interessante sul metodo put cosa fa il metodo put il metodo put immaginiamolo chiamato dal DAO adesso tra un attimo lo vediamo chiamato dal DAO il DAO trova una riga fa la lista di tutte le country trova una riga una nuova country crea un oggetto country e poi si chiede ma io ho questo oggetto country è relativo a una città nuova oppure guarda caso un oggetto equal a una città che già esiste ma non è identica ma sto rischiando di creare un doppione allora questo metodo put fa quel lavoro prende un oggetto country che ha diciamo così già creato il il DAO il chiamante e dice ma guarda per caso nella mia mappa ho già una country cioè ho già un oggetto che abbia lo stesso country code perché se ho già un oggetto che ho se già nella mappa contiene già un oggetto che ha questo country code vuol dire che questo oggetto country l'ho già ottenuto l'ho già visto e quindi è già memorizzato nella mappa quindi interrogo la mappa e mi dice old mi restituisce questo oggetto old quindi ho una country che potenzialmente è nuova vado a vedere se c'è già nella mappa interrogandola per country code e vedo se nella mappa c'era allora ho due casi se nella mappa non c'era ancora allora lo devo aggiungere put chiave country code valore country facile se nella mappa c'era già ti dico qual era l'oggetto corrispondente altrimenti se l'ho aggiunta vabbè ti dico qual è l'oggetto che ho appena aggiunto allora oltre al fatto di aggiungere nella mappa la sottile la sottile differenza la finezza di questo metodo è che ritorna old oppure country se l'oggetto è appena stato creato mi ritorna quello che è stato creato se l'oggetto c'era già mi ritorna quello vecchio quindi quando io se io provassi ad aggiungere dieci volte fare creare dieci volte dei new country della stessa città della stessa nazione scusate la prima volta mi restituisce con l'oggetto che gli ho passato new country tale oggetto lo mette nella mappa e mi ritorna l'oggetto che gli ho dato io le volte successive io faccio dei new di nuovi oggetti ma questo metodo put oltre a non aggiungere di nuovo nella mappa cosa che comunque non potrebbe mi restituisce il riferimento all'oggetto vecchio quello che avevo inserito per primo dicendomi guarda che tu mi hai dato un oggetto ma non è nuovo ne hai già una copia di questo quindi per favore usa quella vecchia così non crei duplicate questo nuovo buttalo pure via non serve a niente quindi questo come può usarlo un DAO io ho provato a modificare il metodo più semplice lista adiacenti che data una città trova le città le country adiacenti dove lì effettivamente data una città creavamo una lista di altre città lo ricordate era una lista di country il risultato e di queste country della lista le creavamo nuove creavamo nuovi oggetti non ci ha dato un particolare problema però stava succedendo questo allora qui l'ho semplicemente modificato dicendo quando nel database ho trovato la nuova country 2 creando l'oggetto completo perché questo fa il DAO prima di aggiungere l'oggetto alla lista filtriamolo dall'identity map quindi c2 è l'oggetto che ho appena letto dal database idmap punto put di c2 lo normalizza diciamo così se l'oggetto è nuovo va bene lascia c2 invariato se l'oggetto c'era già butta via il c2 che ho appena creato e mi restituisce diciamo il c2 vecchio il valore ufficiale l'oggetto ufficiale quello vero il primo che doveva rappresentare quella città e aggiungo questo alla lista quindi in tutte se faccio questa modifica su tutti i metodi del DAO che hanno a che fare con country praticamente è una sorta di tabella di memoria di tutte le country che sono mai state lette univo che ciascuna compare una volta sola quindi ho creato e ogni volta quando poi mi servirà nel grafo per stampare dei dati quando ho l'ID voglio avere il country interrogo l'identity map e mi da già l'oggetto senza farla qui o senza fare altre operazioni non dovrò mai più scandire la lista per trovare qual è l'account che ha un determinato ID la lista ce l'ho list.at ma in più in parallelo ho anche la mappa e di liste ne posso creare tante questo metodo lista di accenti lo chiamo tante volte con tante count di partenza diverse quando creo il grafo lo chiamo tante volte però se due tre quattro count diverse avranno tra i propri adiacenti alcuni stati in comune ecco l'oggetto usato per rappresentare questi stati in comune sarà non una copia uguale ma esattamente lo stesso oggetto quindi questo è l'altro diciamo così meccanismo che in qualche modo per cose di questo genere come quello che abbiamo fatto prima nel country borders è opzionale se vogliamo sicuramente migliora un pochino la struttura del programma ma quando dobbiamo fare dove eravamo no ho sbagliato la presentazione quando dobbiamo creare delle reazioni molti a molti come queste diventa abbastanza critico perché altrimenti poi ci si perde perché hai oggetti sempre ogni volta diversi e non riesci mai a poi ritrovarli al volo allora questo ragionamento vorrei che provaste ad applicarlo anche se un pochino vi rallenta perché dovete creare un pochino di infrastruttura in più sull'esercizio di mercoledì che sarà proprio su un database di articoli d'autori quindi un pochino più complicato come struttura ma rispetto a quello di Metro Paris è un pochino più semplice come relazione perché non ha la stazione di partenza e la stazione di arrivo che poi complicano perché è una relazione in più ok? per oggi va bene così ok ok grazie 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 grazie